Qui Radio Forcella, buonasera da tutti, dal vostro Gianfranco, faccio questo video promo per annunciarvi che metto in descrizione un video che ho fatto ieri nella mia postazione di Radio Forcella, un video messaggio per i nostri cari nasuncoli che governano il mondo, un video che come sapete non posso pubblicarlo su Facebook, Lota e sugli Lota perché altrimenti quel video me lo butterebbero giù. Perciò, naturalmente ho fatto un video che prima l'ho pubblicato su Rumble e adesso questo video messaggio per i nostri cari nasuncoli ve lo metto in descrizione. Quindi, se volete vedere il messaggio fatto ai cari nasuncoli, andate sul mio canale Rumble Forcella, condividete questo video in modo che anche i cari nasuncoli arrivino il mio messaggio e vediamo un po' cosa faranno. Perciò, mi raccomando, iscrivetevi al canale Rumble Forcella, vi metto il link in descrizione e li trovate il mio video fatto appositivamente ai cari nasuncoli che governano il mondo. Ciao a tutti, dal Gianfranco.